Ciao! Oggi vorrei parlarti del controllo, del bisogno di controllo. Io mi chiamo Valerio Fulloni e mi prendo cura di tutte quelle persone che sentono di avere smarrito una parte importante di sé e manifestano nel loro corpo malessere ricorrenti. Li aiuto a risvegliare il loro potere interiore da tempo assopito in grado di farle sentire nuovamente complete, serene e capaci di fare la differenza con il loro lavoro. Bene, come ti dicevo oggi vorrei parlarti del controllo perché questa è una problematica che spesso mi viene portata all'interno del mio percorso sblocca corpo e anima per rinascere. Perché? Perché nel momento in cui noi cerchiamo di tenere tutto sotto controllo e in realtà, come già ti ho detto, tendiamo a bloccare le nostre energie, tendiamo a escludere la vita in realtà e quindi ci sentiamo poi svuotati, sconnessi, al di fuori di un sistema più grande di noi. Ma perché ho bisogno del controllo? Beh, di solito il controllo è strettamente collegato alle nostre emozioni. Cioè, voler controllare tutti gli aspetti della mia vita o le persone che mi incontro e che mi frequentano è un bisogno di sicurezza estremamente profondo. È un tentare di arginare la paura di quello che può succedere. Ma, come dicevo, questo arginare la paura in realtà crea dei muri, crea delle distanze che mi scollegano dalla mia stessa vita. E per fare questo, cioè quindi per controllare tutto, in realtà consumo veramente un'infinità di energie alla fine per niente. Perché quello poi che scoprirò è che se le cose devono andare in un certo modo, ecco tutto quello che ho cercato di bloccare, stabilizzare, rendere sicuro, in realtà crollerà sotto i miei piedi. Allora, come posso fare a uscire da questo bisogno del controllo? Beh, la prima cosa di cui ho bisogno è sviluppare una profonda fiducia in me stesso. Perché nel momento in cui io mi sento sicuro di chi sono e di quello che voglio portare nel mondo, allora avrò sempre meno bisogno di controllare tutto quello che succede. Perché sono allineato, sono presente a me stesso. E per fare ciò ho bisogno quindi di risvegliare la mia forza interiore. Infatti, di cosa ho bisogno? Ho bisogno di una guida, di un aspetto superiore che posso incanalare, seguire, reintegrare nella mia vita per riuscire a ristabilire quel flusso che per esempio l'acqua ci rappresenta. La capacità di adattarci, di fluire nell'esperienza della nostra vita vengono rappresentate molto bene dall'elemento acqua. Ecco, ristabilire questo contatto dentro di noi diventa essenziale. Ma, in realtà, quando io vivo il bisogno del controllo, sto vivendo anche una profonda e a volte estenuante lotta all'interno di me stesso. Una lotta appunto tra magari la mia forte razionalità, che vorrebbe tutto incasellato, tutto nei giusti spazi, così come io ho deciso, e invece la mia parte più istintuale, la mia parte più emotiva per certi versi. Allora diventa essenziale riuscire a riportare in equilibrio questi due aspetti. Parlare di equilibrio tra la mia parte emotiva e la mia parte razionale, o potrei dire tra il mio emisfero destro e l'emisfero sinistro, mi fa ricordare un numero. Un numero che è estremamente particolare, il numero 8. L'8 non è altro che il simbolo dell'infinito, ma rappresenta anche un equilibrio tra ciò che è in alto e ciò che è in basso. Un aspetto di reciprocità, di armonizzazione, di scambio continuo tra queste due parti, quindi tra la mia razionalità e la mia emotività, per esempio. Ecco, sviluppare questa armonia, questo fluire tra questi due aspetti, che sono entrambi essenziali, affinché io possa avere una vita equilibrata, di successo, dove mi sento sereno e appagato, ho bisogno di lavorare in questo modo. E, per esempio, posso fare questo a livello energetico, andando ad armonizzare gli aspetti della mia coscienza. In particolare, potrei dire, andando ad armonizzare quelli che sono i miei tre poteri. E posso creare effettivamente un 8 tra i centri che collegano questi aspetti. La razionalità la possiamo collegare al centro della visione, quello che viene localizzato all'altezza della nostra fronte, collegato anche ai nostri occhi fisici. Poi abbiamo un altro potere, che è quello più legato all'azione, alla capacità di fare, ma anche alla nostra parte più istintiva ed emotiva, e quindi un centro che è, per esempio, localizzato a livello dell'ombelico, e quindi nella parte bassa del nostro cuore. E per fare un 8 abbiamo bisogno di un fulcro centrale, e questo viene sviluppato proprio all'altezza del cuore, perché il cuore è colui che integra ed armonizza tutti gli aspetti. Ecco allora che possiamo, anche a livello energetico, cominciare a lavorare per armonizzare questi aspetti all'interno della nostra coscienza, della nostra vita, passando sempre dal centro del cuore, che è il centro legato alla forza vitale, alla vitalità, all'amore, alla volontà, quindi è un centro estremamente importante ed essenziale nella nostra vita. Questo è quello, per esempio, che faccio proprio all'interno del mio percorso firmato, Sblocca Corpo e Anima per Rinascere, un percorso in dieci settimane, anche online, dove aiuto le persone a risvegliare la loro forza interiore, in modo tale che possano sentirsi di nuovo completi, sereni ed appagati. Sono tre le cose di cui hai bisogno quando senti che la tua energia è bloccata o comunque che la disperdi e quindi ti senti svuotato, scarico, senza energia. Primo, hai bisogno di ricontattare la fonte inesauribile della tua energia e risvegliarla, in modo tale da avere a disposizione tutta l'energia di cui hai bisogno. Questo perché noi molto spesso non siamo consapevoli di come utilizziamo le nostre energie e quindi tendiamo o a bloccarle, esattamente come dicevo, no, riguardo al discorso del bisogno di controllo, oppure a disperderle, magari in attività che alla fine sono inutili. E questo, per esempio, è quello che succedeva a Barbara, una riflessologa che quando mi ha contattato soffriva di risvegni notturni in preda a pensieri catastrofici. Ma non solo, si sentiva bloccata nel suo lavoro perché a causa della pandemia aveva perso diversi clienti ed era stata impossibilitata a lavorare presso il suo studio. Questo l'aveva portata alla necessità di sviluppare nuove alternative di lavoro, nuovi progetti e anche a un bisogno di comunicare meglio online quello che ama fare. Ma cosa succedeva? Che disperdeva ogni volta le sue energie perché ogni volta che tentava di produrre qualcosa di nuovo, subito dopo lo cancellava pensando che non fosse abbastanza, che non avesse valore, oppure chiedendosi cosa avrebbero potuto pensare i suoi colleghi. ecco che lavorando insieme siamo riusciti a focalizzare le sue energie, dandole la possibilità di capire cosa esprimere realmente sul suo blog, ma soprattutto trovando quella tranquillità che le ha permesso di tornare a dormire la notte e svegliarsi con sempre più energia. La seconda cosa di cui hai bisogno invece è capire che quando soffri di un malessere ricorrente, spesso e volentieri stai vivendo una lotta interna, profonda ed estenuante. Una lotta contro quella parte che appunto cerchi di controllare, di tenere nascosta, magari rinchiusa in uno sgabuzzino. E a questo proposito voglio raccontarti di Matilde, una delle mie clienti più giovani. Lei quando mi ha contattato soffriva di coliche intestinali, coliche che si attivavano quando voleva uscire di casa, quindi magari quando voleva andare al ristorante, al cinema o a fare una gita con i suoi amici, ma anche quando doveva uscire per andare all'università o al lavoro. E la paura di stare male l'aveva pian pianino portata a rinchiudersi in casa. Ecco che lavorando insieme, Matilde ha capito che quel malessere dipendeva da un conflitto importante che aveva dentro di sé, tra la sua forte razionalità e un'emotività schiacciata. Un conflitto che la portava a irrigidire il suo diaframma e la zona addominale in una maniera veramente potente, tanto da percepire il suo diaframma duro come il cemento. E questo poi la portava anche a sviluppare, quindi, questi attacchi. Ecco che insieme siamo riusciti a portare equilibrio tra questi aspetti, no? In modo tale che Matilde potesse vivere la sua emotività con maggiore equilibrio, con maggiore serenità. E questo l'ha portata a tornare ad andare al lavoro da sola senza avere più bisogno di essere accompagnata. La terza ed ultima cosa di cui hai bisogno è capire come manifestare la tua forza interiore, in modo tale da sentirti autentico e completo. E a questo proposito voglio raccontarti di Silvia, una mia cliente arte terapeuta. Quando mi ha contattato, Silvia soffriva di sinusite croniche. E anche in questo caso, lavorando insieme, si è resa conto che questo problema nasceva da un suo tentativo di soffocare quella parte di sé che credeva profondamente nella magia e nel valore e nella saggezza dei tarocchi. Lavorando insieme, non solo dopo due settimane ha smesso di soffrire della sinusite, ma è anche riuscita a superare la paura del giudizio, quella paura che le aveva fatto tenere per sé questa passione per i tarocchi che aveva sin dall'infanzia. E oggi ha introdotto proprio l'utilizzo dei tarocchi all'interno dei suoi percorsi di crescita e di arte e terapia, come strumento per risvegliare la creatività, l'intuito e l'immaginazione dei suoi clienti. Bene, ti chiedo, questi sono i risultati che anche tu vorresti ottenere? Se la risposta è sì, allora ti invito a compilare il modulo che puoi trovare qui sotto nei commenti. Modulo che ti darà accesso a una videochiamata di svolta nella quale potremo parlare insieme, capire cosa stai vivendo e se il mio percorso è proprio quello che stavi cercando. Quindi non perdere tempo, compila il modulo. Ciao!